Ciao a tutti e benvenuti in Wordpress 1,2,3. In questo modulo impareremo a organizzare i nostri articoli attraverso categorie e tags. Cominciamo con il capire cosa sono le categorie. Cercherò attraverso il sito del Corriere della Sera di spiegare che cosa sono le categorie. Ogni categoria può avere una sottocategoria. Ad esempio andiamo su le città e vediamo che ci sono delle sottocategorie, ovvero le singole città. All'interno delle singole città troviamo ancora delle ulteriori sottocategorie ma troviamo anche degli articoli, dei post. Analogamente la cosa funziona su Wordpress. Qui abbiamo il nostro sito in Wordpress. Io nel frattempo ho aggiunto qualche finta ricetta in più giusto per avere qualcosa su cui lavorare. A seconda del tema le categorie vengono visualizzate in punti differenti ma normalmente noi troviamo le categorie su ogni singolo post. Vedete? Cotoletta alla milanese, categoria carne e secondi. E questi sono i tags. Vigoli in salsa, pesce e primi. Spaghetti alla carbonara, carne e primi. Eccetera. Troviamo le categorie anche sul lato. Qui sulla barra laterale troviamo le categorie carne, pesce, primi e secondi. Io cliccando sulla categoria mi vengono visualizzati tutti i post relativi a quella categoria. In questo caso abbiamo cliccato pesce e quindi ci sono primi e secondi a base di pesce. Pigoli in salsa, branzino al sale, spaghetti alle vongole. Ok? Ora vediamo come gestire queste categorie. Andiamo nella nostra bacheca e visualizzando l'elenco degli articoli vediamo anche le categorie a cui ciascun articolo è stato assegnato. Ma vediamo come gestire le categorie. Qua troviamo sulla barra di sinistra la voce categorie. Clicchiamo categorie e troviamo le nostre categorie. Carne, pesce, primi e secondi. Per aggiungere una nuova categoria digito il nome, in questo caso dolci, e faccio clic su aggiungi una nuova categoria. Se invece voglio aggiungere una sottocategoria, abbiamo visto prima città, Milano, Cronaca, quindi delle sottocategorie, il principio è molto semplice. Ad esempio, se all'interno dei primi voglio aggiungere pasta e risotti, comincio a scrivere pasta e attribuisco la categoria genitore, in questo caso primi. E poi faccio nuova categoria. Riso, genitori sempre primi, e faccio nuova categoria. Vedete che qua adesso, sotto i primi, abbiamo riso e pasta. Vediamo anche come modificare una categoria. Perché creando le finte ricette mi sono reso conto che carne e pesce può essere improprio. Quindi vorrei modificarlo in mare e terra. Quindi come faccio a modificare una categoria? È semplicissimo. Vado su modifica rapida, pesce lo trasformo in mare e anche l'abbreviazione e aggiorno la categoria. Carne abbiamo detto che vogliamo trasformarla in terra. Vi faccio vedere la differenza con modifica da modifica rapida. Facendo modifica categoria io posso attribuire, in questo caso, eventualmente un genitore. Terra e terra. E faccio clic su aggiorno. Ovviamente, in maniera analoga ai post, è possibile cancellare una categoria. Ora che abbiamo fatto queste modifiche, andiamo a vedere come sono state riportate sui nostri post ed andiamo ad assegnare i piatti di pasta anche alla nuova sotto categoria. Quindi di nuovo tutti gli articoli. Io vedo qui che in bigoli in salsa, branzino al sale, che prima avevano assegnato come categoria pesce, oranno, mare. Stessa cosa per gli spaghetti alle vongole. Ma ora, bigoli in salsa e spaghetti alle vongole, voglio assegnarle la categoria pasta. Modifica rapida. Assegno pasta. E faccio clic su aggiorno. Faccio lo stesso con i bigoli in salsa. e faccio clic su aggiorno. Quindi qui vediamo che sia i bigoli in salsa che gli spaghetti alle vongole hanno mare, pasta e primi. Stessa cosa. Ora vediamo invece cosa sono le tags. Le tags sono delle parole chiave relative a ciascun post. Analogamente alla categoria, vengono visualizzate in questa schermata. Le ho assegnate ovviamente io, cotoletta alla milanese, cotoletta e vitello. Bigoli in salsa, acciughe, bigoli, cipolle, cucina veneziana, pasta. E come criterio ho deciso di assegnare gli ingredienti principali di ciascuna ricetta ed eventualmente l'area di provenienza. Ad esempio cucina veneziana in questo caso. La gestione delle tags è analoga. Posso o inserirle all'interno della schermata di modifica del mio post qui in basso posso eventualmente decidere di toglierle per toglierla clicco ora raggiungo di nuovo oppure tramite questa schermata con la funzione modifica rapida io posso aggiungere o eliminare le tags separandole con una virgola ad esempio cucina milanese e facendo sempre clic su aggiorna per ora è tutto nel prossimo modulo impareremo invece come creare e come modificare una pagina se vi è piaciuto questo video fate clic sul like se avete qualche dubbio scrivetemi o lasciate un commento i miei ricapiti sono sempre gli stessi email vi www.123.matteo.tv o su twitter Matteo A grazie e alla prossima